No contact con narcisisti e persone tossiche Allora, premesso che i narcisisti, ho parlato tante volte dei narcisisti Le persone tossiche chi sono? Le persone tossiche sono persone, diciamo, negative per noi A vari livelli, ci sono i narcisisti Ma ci sono anche persone ancora più tossiche dei narcisisti Le persone più tossiche dei narcisisti sono quelle appartenenti alla famosa famigerata triade oscura Che raggruppa, diciamo, il peggio del peggio Cioè raggruppa i narcisisti con i macchiavellici, le persone macchiavelliche Quelle che agiscono secondo il motto, infine giustifichi i mezzi E poi gli psicopatici, i folli, paranoici, insomma, persone estremamente negative Quindi è importante per te E poi ci sono anche persone tossiche invece Con una tossicità più bassa, diciamo Ovviamente Questa tipologia di persone con tossicità più bassa Sono, ad esempio Beh, si va da persone che hanno una visione della vita diversa dalla tua Quindi non c'è feeling, non c'è, diciamo, connessione Oppure persone che hanno anche un modo, diciamo, di ragionare Diverso dal tuo Persone che non hanno una maturità emotiva Ad esempio mi vengono in mente i Peter Pan Ma anche per quanto riguarda le donne, le sirene, le gatte morte Per quanto riguarda gli uomini, i Peter Pan, i libertini Insomma, potrebbero essere persone tossiche Persone impegnate, persone sposate Insomma, che se tu vuoi la famiglia del murino bianco Beh, quindi questo è un po' quello che devi portare avanti Insomma, se vuoi raggiungere i risultati che ti piacciono, insomma, nella tua vita Se vuoi ottenere dei risultati importanti Quindi, con le persone tossiche bisogna effettuare il no contact E renderti conto però che tendenzialmente avranno delle risposte Soprattutto i narcisisti, ma anche le persone tossiche in generale Si comporteranno, quindi cercheranno Dopo il primo periodo di stupore, diciamo Passati normalmente appunto i primi 21 giorni Se il no contact fatto bene Darà dei forti risultati anche con i narcisisti Chi dice che con i narcisisti il no contact non funziona Non sa quello che dice Perché con i narcisisti il no contact attecchisce E attecchisce di brutto anche Perché? Anche con le persone tossiche Perché sono persone che non tollerano essere, come dire, messe da parte Quindi, come dire, la sconfitta non gli va giù Talvolta ci sono persone che anche arrivano al punto Muoia Sansone con tutti i filistei Speriamo di no Anche talvolta da un punto di vista poi di altra natura Comunque Le persone, i narcisisti e le persone tossiche Cosa fanno? Come si comportano? Intanto, ovviamente, tu devi Da questi comportamenti Riuscirai ad avere anche una riprova Del fatto che hai a che fare con un narcisista Prima se ne sta in silenzio assoluto Perché ovviamente vuole testare Vuole capire se veramente Come dire, tu hai preso le misure Hai capito con chi hai da fare Con chi c'è, diciamo E quindi se questo è vero Ovviamente non devi Come dire, se ne starà di buono Per capire se tu torni Perché se torni Poi ti garantisco Che farà di te polpette Ti butterà nel tritacarne Praticamente Dopodiché Che succede? Succede che La prima cosa che farai È ritornare a ciò che faceva Quando ti aveva conosciuto Cioè probabilmente il no bombing Il bombardamento d'amore Il tentativo di sedurre Il tentativo di amagliare Il tentativo di riconquistarti Pensa a te Uno che se ne fotteva Uno che Cioè dopo un po' Diciamo Tornerà alle prime modalità Quelle che hanno funzionato Sperando che tu ricada Nella rete Sperando che tu Possa ricadere Diciamo così Nella trappola E questo Il narcisista Lo mette in atto Lo mette in atto Anche la persona tossica Perché? Non perché abbia studiato Tra virgolette Ma perché vuole capire Se ha aggancio ancora Quindi Quello che farà È proprio cercare di risucchiarti Cercare di Fare L'aspirapolvere Tra virgolette Come viene chiamato L'uvering L'aspirazione Cioè cerca di risucchiarti E di riportarti A un coinvolgimento Quindi Diventando seduttivo Fondamentalmente Aumenta le sue tattiche Ad esempio Inizierà a chiamarti Cosa che magari Prima non facevo Faceva poco Quando voleva penalizzarti Inizierà a mandare messaggi A scriverti A vederlo Un po' ovunque Insomma Apparire Tac dal nulla Magari Che ne so Se sa dove è in palestra Si manifesta davanti alla palestra O Se sa Che hai Dei percorsi abituali Si manifesta In quel percorsi abituale Insomma Lo ritroverai Un po' dappertutto E questo Sempre nell'ottica Della speranza Diciamo Che può avere Di Riconquistarti Perché comunque Perdere Diciamo Anche l'osso Il cane che perde L'osso Che non gli interessava più Ha voglia comunque Di riconquistarlo Sono dinamiche umane E questo Niente di straordinario Però Diciamo che Tu puoi Cercare di rendertene conto Per Bloccare un po' Questa situazione E far sì Che non diventi Una situazione Estremamente Nociva Insomma Quindi cerca di evitarlo Praticamente Cerca di evitare Perché il mio consiglio È comunque Di portare avanti Il no contact Se è un narcisista Sicuramente Se non lo è Una persona solo Tossica Deve però Presentarsi proprio Cambiato Deve avere le prove Certe Prove provate Che questo cambiamento È avvenuto Inizierà anche Diciamo I narcisisti Soprattutto A cercare Di diffamarti Con le scimmie volanti Le persone tossiche Di solito Non usano scimmie volanti Libertini Poi si sgancia Per facilmente Paradossalmente Più tossica Più aumenta La tossicità Della persona Più Si appiccicano Poi E quindi Comunque Questa è una tattica Che useranno Poi in tanti Quello di mettere Degli antagonisti Triangolare E I narcisisti Usiranno anche Utilizzeranno anche Le scimmie volanti Per Denigrarti Le scimmie volanti Sono Come dire Gli schiavetti Del narcisista Insomma E Talvolta Si può anche Si può anche Manifestare rabbia Quindi Il suggerimento Che ti do È quello Comunque Di prendere Le distanze Comunque Di mantenere Le distanze Perché Insomma Potresti anche Trovare persone Che poi Manifestano Manifestano Rabbia Se tu Continuerai A persistere Diciamo così Nel Non contatto Nel No contact Che è quello Che ti consiglio io Ti renderai conto Avrai anche Poi la prova Provata Del fatto Che veramente Che fa Alcuno Narcisista Perché avviene Il famoso Il famoso O piacevole Collasso Narcisistico Cioè Il narcisista Non digerisce Il fatto Che tu Ha un tracollo Tende Andare In depressione Se il narcisista Se si tratta Di un libertino Invece andrà a cercare Subito Un'altra offerta Fondamentalmente Ed è anche meglio Fondamentalmente Perché nel libertino È tossico Ma relativamente Quindi comunque Invece persone Estremamente gelose Possessive Potrebbero diventare Anche peggio Nel narcisista Potrebbero diventare Pricicose Quindi è molto meglio Prendere veramente Le distanze Chiudere veramente Ogni contatto Ogni rapporto E invece Il narcisista Ha questo Collasso Narcisistico Quindi Tende a sviluppare Una depressione Tende a entrare In crisi Però Ripeto Questi sono problemi suoi A te non deve fotter Assolutamente niente Perché Non è che tu Anzi Tu devi mantenere Non devi Perché poi L'altra tattica Che utilizzeranno Quando sviluppano Depressione È quella Di essere Come possiamo dire È quella Di essere un po' Presentarsi Un po' Come Poverini Come Insomma Come vittime Fondamentalmente Quindi Fottitene Ovviamente Non devi stare lì A rimuginare Per nulla E dopodiché Se tutto si sblocca Anche il narcisista Andrà a cercarsi Una nuova offerta Narcisistica Andrà a cercarsi Una offerta Narcisistica Altrove Ecco Questo Sono tre Dinamiche Che avvengono Con i narcisisti E con le persone Tossiche Ovviamente Il no contact Devi mantenerlo A livello totale A livello globale E Quando poi tornerà Perché torneranno Ripeto Io Suggerisco Di non Continuare A avere contatti Se si trattava Di un libertino Di una persona Magari Così era Allora Metti subito Un vincolo Se è una persona Sposata Deve tornare Avendo lasciato la moglie Cioè se c'è un atto Che tu vuoi che faccia Tipo lasciare la moglie Lasciare la fidanzata Da quell'altro Allora Quando avrai le prove certe Che quest'atto è stato fatto Allora Potrai dare il recesso Perché dare il recesso prima E beh Non ti porterà Da nessuna parte Anzi Ti porterà A non ottenere Nessun risultato Ti porterà A ottenere Risultati negativi Quindi va assolutamente Evitato Insomma Perché A questo punto Mettere i vincoli E fondamentali Bene Per questo video è tutto Se ti è piaciuto Metti un like Condividilo con i tuoi amici Iscriviti al canale Attivando la campanella Mi raccomando Così riceverai la notifica Di tutti i nuovi video